Vi avevo promesso che non ci sarebbe stata nessuna pietà per i furbetti del reddito di cittadinanza. Abbiamo fatto una convenzione con la Guardia di Finanza che sta funzionando benissimo. Anche nei prossimi giorni ci saranno nuove ispezioni nei centri di assistenza fiscale in Italia che stanno consigliando alla gente come eludere i paletti del reddito di cittadinanza. Ma devo dirvi che, come sempre, il PD non smette mai di meravigliarci e il primo furbetto del reddito di cittadinanza non è una persona in difficoltà che voleva il reddito di cittadinanza, ma è un consigliere comunale del PD, capogruppo del PD a Monreale, nel Consiglio Comunale, che lavorava in un centro di assistenza fiscale a Palermo e consigliava alla gente come frodare lo Stato italiano cambiando le residenze e quindi facendo crescere o abbassare il valore dell'Isee per accedere a due redditi di cittadinanza e non uno.